Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi analizziamo queste 9k mani di Myomai. Che vuol dire? Mi sono informato, me l'ha detto Iro ovviamente, vuol dire fegato di scimmia in ungherese. Mi piaceva il suono e il fatto che io sono un sacco su monkey ma io c'ho il fegato. Sono un sacco di monkey? Ah, che ci sono un sacco di monkey? Che beh va bene, era solo per spiegare. Così mi ha detto Iro quindi mai o mai non sbaglierò mai più questo nick. Mai, soprattutto. Comunque, cosa ci interessa vedere di questa rid? Non tanto l'aspetto di statistiche, impostazioni di gioco e queste cose qua. Ho già analizzato diverse volte le mani di Iro sia con lui sia in qualche filmato di Youtube eccetera. E abbiamo già ragionato su molte cose che può ancora migliorare il suo stile ma è piuttosto buono, sicuramente è convincente. Sicuramente il Noname 2 è stato massacrato. Ma questo level up Noname 5 lui stesso mi diceva mi sento un po' come i gamberi per cui tipo un insetto di mare? No, mi sento un po' che vado su, torno giù, ok, ma senza ben capire perché. E siamo qui apposta per cercare di capire cosa ha infettato Iro. Si può infettare qualcuno? No, non devo parlare di infezioni. Dopo la settimana che ho appena passato non mi ci fate pensare. Quindi lasciamo stare questo termine che è proprio brutto, non ci piace affatto. Cos'è comunque, cos'è accaduto a Iro? Una rossa che cambia, scende, sale, scende, cade, scende, sale. Una blu che va bene più o meno muore. Ho visto parecchi culerini, devo dire. Poi li andremo a vedere un paio, li ho anche segnati perché erano troppo spicci da non mostrarli. Così cose, cose, mani piuttosto pazzesche. Ma la vera cosa che ci interessa è la reazione, diciamo, psicologica, emotiva, possiamo dirlo, che Iro ha avuto nel confronto di qualche giocatore un po' spostatello. Non sto parlando dei soliti giocatori. C'era qualche mano anche contro qualche station, non lo metto in dubbio. Secondo me Iro ha avuto sì una spinta emotiva. E ricordiamoci che la definizione stessa di Tilt è in sostanza un'emozione, qualunque essa possa essere. Ci ragioneremo con Iro per capire quale emozione è stata la base. Comunque è stata l'emozione più un errore, bad game, bad play, diciamo. Ecco, tra l'emozione, tra, diciamo, il trigger, per cui la causa scatenante, diciamo, la nostra emozione e l'errore, c'è un elemento psicologico in mezzo, c'è una reazione emotiva, c'è qualcosa, c'è qualcosa che è passato tra l'una e l'altra. Noi dobbiamo cercare di lavorare su questo elemento in mezzo. Dobbiamo ricordarci che sul Tilt è una metafora che mi piace molto, soprattutto quando sono drogato delle mie droghe legali, sto prendendo un po' di medicina e mica cose che non si possono prendere, tutta roba comprata in farmacia. Mi piace pensare al Tilt come un'ombra proiettata da una luce, diciamo. Ecco, noi non dobbiamo lavorare tanto sull'ombra, tanto più sulla luce. Se noi spostiamo questa luce, chiaramente l'ombra si sposterà e non dobbiamo avere paura dell'ombra. Da bambini, insomma, dovremmo essere abituati a non avere paura delle ombre, suppongo, a meno che non stiamo giocando a qualche gioco fantasy, in tal caso le ombre fanno malissimo e ci risucchiano anche le caratteristiche. Che è cheat, non so più cosa sto dicendo, ma dobbiamo lavorare più sulla luce che proiette la luce che sta dietro di noi, che proiette quest'ombra che sarà tanto più lunga, tanto diversamente la luce è posizionata. Dico cose senza senso, ma l'idea è abbastanza chiara, sono pazzo, probabilmente l'idea è quella. Comunque, se noi ragioniamo su cosa fa scaturire questa Tilt, sarà più facile lavorare su quell'ombra che ci fa paura, ma non è l'ombra dove ci fa paura, è quello che ci sta dietro, perché se c'è una luce enorme puntata dietro qualcuno questa bolletta la pagherà, noi non vorremmo mica essere noi. Comunque ragioniamoci, cerchiamo di capire, quindi diciamo trigger più bad play, in mezzo c'è qualcosa tra l'una e l'altra e noi dobbiamo lavorare su quella cosa, cioè riconoscerla quando avviene, fare il percorso inverso, abbiamo riconosciuto un bad play, cosa abbiamo fatto, overplaying, overcalling, eccetera, eccetera. Da cosa è partita questa cosa? Quel tipo di giocatore, quel tipo di situazione, l'errore nostro, quello che è stato, ecco, noi spezziamo l'elemento internazionale in mezzo, un classico modo è quello del lungo respiro, cioè vediamo, riconosciamo l'errore, o riconosciamo l'evento che triggera l'azione, riconosciamo di aver giocato la mano male, come di solito facciamo quando siamo tentati, magari overplayando, magari overcollando riverbank, sapendo di essere battuti, alzando le size, perché volevamo chiudere la mano presto, perché ci scoppiano sempre quello che è, ecco, noi creiamo uno spazio vuoto tra queste due cose, e di solito si fa veramente con un profondo respiro, staccando l'attenzione dei tavoli per qualche secondo, non è che serva per ossigenarci, sì, l'ossigeno fa bene, a meno che non lo avviciniamo a una fiamma viva, in tal caso esplodiamo, andiamo a fuoco, ma è proprio per staccare l'elemento irrazionale che si sta per, diciamo, inserire nel nostro, si può dire inserire senza denuncia per violenza sessuale, credo di sì, sta per inserire nel nostro stile di gioco e noi dobbiamo eliminare questa, diciamo, iniezione di stile di big game, possiamo dire, non dovremmo dirlo, dobbiamo eliminare, diciamo, il tilt sul nascere, facendo questo percorso inverso, così da riconoscere poi in futuro, appena vediamo il trigger, già facciamo il nostro stacco di logica, quel profondo respiro di cui vi parlavo, c'è chi spacca i mouse per fare queste cose, ne ho esempi anche tra i miei giocatori il tempo fa, ricordo il buon Dario che mi passava le foto dei mouse rotti, una storia bellissima, ma non ve la racconto adesso, sennò questa ride non finisce più, e in realtà è molto importante parlare di questo concetto, perché principalmente parleremo di tilt, di mindset e di cosa è accaduto al nostro hero, partirei da qualche mano, così che le cose possono essere un po' più chiare, cerchiamo di capire qua cosa accade, allora il nostro hero è in un buon tavolo, abbiamo Fish alla nostra sinistra, middle stack, probabile Fish subito alla nostra sinistra, su cui abbiamo poche mani, per ora è un 30-15, abbiamo poche mani, non lo conosciamo, non è un nick molto visto, probabilmente è un occasionale, anche perché ho visto che hero parte spesso da tavolo vuoto, ottima cosa, ha anche giocato un buon zap, ed è una cosa un po' curiosa, non perché hero non giochi bene le zap, perché quando siamo affetti da tilt, di solito le zap è la situazione dove andiamo a giocare un po' peggio, ma comunque ok, vediamo un attimo questa mano, succede che apre cecca, il buon cecca che conosco, ecco qui andiamo a tribettare 4 per, è già una cosa che non va bene, come idea generale, anche perché, se noi pensiamo, c'è veramente motivo di tribettare questa mano, non troppo, anche perché dalle poche mani che abbiamo qui sul nostro hero, non so come mai, ah sì, perché ho messo il filtro che siano le mani solo dell'ultimo mese, suppongo, ultimi due mesi, contro questo giocatore, non ne parlerò troppo, perché con cecca ho fatto qualche sessione qualche mese fa, per cui non mi va di parlare delle inexploitative, contro student o quant'altro, sia chiaro, comunque se abbiamo una lettura che folda poco alla continuation bet, e non troppo boss flop, e quindi già, la tribett con la su 7 off è un po' forzata, poi uscire 4 per è decisamente forzata come scelta, perché non c'è veramente motivo di alzare size, ma l'ho messo apposta, perché prima cosa, riconosciamo nel nostro studio di gioco una tribette overplaying, con una size 4 per, con un range fuori dallo standard, in questo caso non c'era, a mio avviso, troppo motivo per tribettare questa mano in posizione, comunque ok, tribettiamo size lunga, contro il giocatore che folda poco, due cose che, guardate, dopo, non hanno troppo senso, perché mai alzare size, contro il giocatore che folda poco, se alzeremo size, sarà probabilmente con un po' di value extra, contro il giocatore che sappiamo che overcolla, e allora magari lo facciamo per un motivo, quindi logica e una mano che, riassunta, riassunta, riavvolta all'indietro, partendo dalla fine e tornando all'inizio, si argomenta abbastanza bene, usciamo da una linea standard, per questo e questo motivo, invece se noi la prendiamo in questo momento, la prendiamo, la guardiamo alla mano dopo averla giocata, perché abbiamo alzato size, fuori range, contro il giocatore che folda poco, non vedo un elemento razionale, probabilmente c'era un elemento irrazionale, probabilmente c'era un'emozione, e so che il nostro check può far tiltare un po' di personaggi, comunque usciamo lunghi, di contro il nostro Oppo, esce lungo anche lui, così noi facciamo 60, lui ci spara 2 euro in faccia, proprio bam, restando con 2,90, non penso possiamo pensare, che il nostro Oppo delle stats che abbiamo, folderà mai, dopo aver fatto una size del genere, con un piatto del genere, noi prendiamo il nostro bottom range, per non saperne leggere né scrivere, bam, mandiamo il vascone bello tondo, linea di overplaying, in un sacco di spot, sia anche la check, dopo gli scriverò, dico bro, ma che cosa mi fai, cosa mi combini, ma non stiamo qui a parlare di check, stiamo qui a parlare del nostro Maio, che non è maionese, sapete che ha feccato di scimmia, ma è assolutamente overplayata, la gira KK, possiamo prendere nota, perché comunque è uscito con una 4bet molto lunga, dopo una 3bet molto lunga, può essere utile saperlo, non in particolare sul check, perché vi dicevo, stude, non parliamo delle inespetitive, ma è una mano giocata un po' a caso, da tutte e due, possiamo dirlo, ma Maio qua, ha messo del suo, ha messo sicuramente qualcosa che non è razionale, lui normalmente non avrebbe giocato così questa mano, possiamo argomentare per un call in posizione, in questo spot è un knee, possiamo argomentare per una 3bet, non particolarmente contro questo giocatore, onestamente credo qua avrei semplicemente foldato, se decidiamo di giocare la mano, seguiamo una linea un po' più standard, e poi se i 3betati e i 4betati, essendo il nostro bottom range, qui dovremmo tranquillamente foldare, ma con size accettabili, non committandoci, non overplayando, non creando size di questo tipo, quindi, din din din, suona la campana, quindi tutti a casa ragazzi, è l'intervallo, no, all'intervallo non si andava a casa, comunque suonano la campanella, discorso inverso, vediamo la mano, vediamo cosa abbiamo fatto, quindi linea di overplaying, size grande, mancanza di lettura, mancanza di cognizione del nostro range, e costruzione dello stesso, il nostro bottom range, che viene repusciato su queste size, tutte cose non standard, cerchiamo di vedere un'emozione dietro, cosa ci aveva combinato, cecca, è un giocatore che ogni tanto fa dei tiri un po' manciini, perché credo sia mancino, no, non è mancino almeno, devo ancora conoscerlo, di persona, abita dalle mie parti, e mi offrirà un sacco da bere, appena potrà bere, ma sono sotto antibiotico per 21 giorni, per cui non posso bere, in teoria, ma vabbè, insomma, non è scritto sulla pietra, non vorrei che fosse scritto sulla mia pietra, poi quella tombale, non poteva bere, ma lo ha fatto, comunque vabbè, sto dicendo troppe stupidaggine, che è il mattino presto, abbiamo capito che c'è stato un errore, riconosciuta, cerchiamo di capire cosa ha combinato cecca per farci tiltare, ha giocato una linea troppo agra, era, non lo so, avrà combinato qualcosa, quindi un trigger, cioè cosa ha attivato il nostro tilt, un bad play, che tipo di bad play c'è stato, in mezzo un elemento irrazionale su cui dobbiamo lavorare, quando ne siamo consapevoli, come giochiamo, come giochiamo di modalità tiltata, lo riconosciamo, conosciamo il trigger, creiamo uno stacco logico, vi dicevo un bel respiro, quello che è, insomma possiamo anche accarezzare comodamente il gatto, quello che è, ecco, possiamo però riconoscerlo, eliminarlo e tornare indietro, se siamo tiltati, magari riduciamo per pochi minuti, il numero di tavoli che stiamo giocando, stiamo giocando, non so, nove tavoli, dico io, ci accorgiamo che stiamo tiltando, piuttosto che alzarci, così di botta, sì, preserviamo il bankroll, che non è mai male, però piuttosto che alzarci di botta, magari dimezziamo i tavoli, giochiamo nei quattro e mezzo, giochiamo quattro tavoli, e cerchiamo proprio di concentrarci, sapere che stiamo tiltando, sapere che effettua sul nostro gioco, e costringerci a ritornare alla logica, lavorare quindi su quella luce, che proietta la nostra ombra, spostarla, la vogliamo proprio sopra di noi, in cima, così come fosse l'ultimo chakra, sopra di noi, che ci permette di vedere il nostro spirito, dal sopra di noi, sblouscendo dal nostro corpo, dico cosa a caso, però per capire, se la luce è sopra la nostra testa, l'ombra sarà piccolissima, e noi riusciamo a vederci per intero, e noi abbiamo bisogno di consapevolezza, volete entrare nella mia nuova religione appena fondata, venite pure, ma vabbè è gratis, fate pure quello che volete, questo tavolo non lo terrei, questo è da dire, come idea generale, siamo tre giocatori, Salligan gioca da secoli, ormai non dico niente su questi giocatori, non dico nulla, ma piuttosto che giocare un 3-way contro questi giocatori, hanno le mie 5 onestamente, decisamente il senso, quittare questo tavolo, giocare un altro tavolo, oppure giocare una linea di gioco, piuttosto ottimale, piuttosto standard, avremo sicuramente 8 miliardi di note su Salli, che perde spesso, mi pare di aver visto, come idea, lo vedo spesso, come si steca, ha delle linee un po' particolari, c'è un po' di tilt nell'aria, ogni tanto leggiamo ai tavolo, dei leggeri commenti apocalittici, sulle sue giocate, c'è lui che ci manda più o meno a qualsiasi, con qualsiasi tipo di risulto, immagino che ci sia un po' di tilt nell'aria, ma non importa, comunque, a Preiss, chiamiamo solo, va bene, folda abbastanza, però già non è proprio impostazione standard, non tri-betare, non tri-way 10-10 come parte di valo, su questo flop, andiamo in check, e ok, è un giocatore che ci betta il 70, e non ha ci bettato, è una cosa che già mi preoccupa un po', su questo, ah si, ci betta, ok, ci betta, check resiamo, può anche andare, il giocatore che ci betta spesso, può essere, ok, comunque ci colla, su questo turn, mettiamo, oppo pusha, ora, 10-10, in questo spot, noi partecipiamo 35%, abbiamo la mano migliore, non tante volte, perché pensiamoci, il nostro hop, che mano può avere giocata così, un po' esagerata, 10-9, la bloccheriamo, si è ok, 10-jack, ok, la bloccheriamo, ma non la vedo molto possibile, come un bet call con incastro in questo spot, ma è possibile, ok, 5-6 è possibile, è possibile 7-8, è possibile 9-8, è possibile 9-7, che sono mani che entrano in suo range, è possibile qualche overpair, non credo avrebbe broccato flop, vedo un 1, un 1 dice crazy in media, non vedo una linea particolarmente agra, non credo avrebbe broccato flop con le sue overpair, ma 9-9, 8-8, 7-7, le underpair, per capirci, l'unica combo che battiamo in questo spot potrebbe essere un 6-6, un po' overplayato, abbiamo noi 10 che bloccherano il suo bluff, cioè anche se lui qua avesse, cioè per dirci, ha su 10 a quadri, per esempio, mano che non può avere, oppo, non credo neanche che sarebbe arrivato su questo turn, ma non importa molto, comunque avendo noi 10 bloccheriamo una piccola parte del suo value, ma 10-jack non credo sia nel suo range, non credo l'avrebbe giocato in questo modo, 10-6 anche la vedo molto improbabile, quindi diciamo non è che stiamo bloccherando il nuts, stiamo bloccherando la parte di draw, come magari qualche asso 10 suited, che avrebbe potuto giocare in questo modo, come di questo tipo, non abbiamo underpair che battiamo, a parte 6-6, che è l'unica mano che potremmo battere in questo momento, 9-9, 8-8, 7-7, ok, 3-3, qualche overpair, però qualche doppia nel suo range, ma non riesco a pensare cosa stiamo battendo nel suo range, asso 9, non c'è motivo di vederla nel suo range qua, non credo, cioè non ne vedo molti insomma di asso 9, magari asso 9 a cuore, asso 9 a picche, ma è molto forzata, ma considerano anche che è uscito quadri, qui semplicemente siamo fuori odds per la scala, a mio avviso siamo tipo sempre dietro, e size veramente grande, fra l'altro nel nostro hop, chiamare è un po' forzato, proprio per i blockers che abbiamo nella nostra mano, col 10 di quadri bloccheremo una parte di draw di quadri, con i 10 bloccheremo una parte di draw con la parte di scala, per carità abbiamo overpair, ma è un overpair senza coppie più basse, cioè non è che abbiamo, non so, jack jack su un flop 7-6-4, dove anche 8-8, 9-9, 10-10 potrebbero darci azione, qua non c'è un underpair, subito più alta del bordo, è subito più bassa della nostra mano, su questo bordo non è proprio il massimo, questo turn chiude anche una bilatera, che noi non bloccheriamo, ed è diventa un po' pericoloso, prendiamo nota su come Ace ha giocato questa mano, comunque, ma in realtà ci sta, si è sabbettato flop, ha collato 4-5, poi ha pushato Nuts, e Nuts ha pushato punto forte, ma i 10, ragionando sui blockers, non era proprio la migliore mano per chi è da chiamare, in questo spot, comunque non necessariamente tilt, era solo una mano giocata un po' così, allora limpa al mondo, rilanciamo ok, su questo board, ma lo mettiamo, una cifra, una size che può anche andare, veniamo chiamati da tutto il mondo intiero, mettiamo piuttosto lungo, in realtà, questa size è un po' deep, per carità, siamo deep, sono deep i nostri oppi, ma così stiamo mettendo un po' di soldi, un po' di soldi, rimaniamo con 2,50 euro, diventerà un po' difficile andare a foldare in questo spot, comunque mettiamo ancora, veniamo mini resati, da notare che il nostro oppo non è andato lì, ha mini resato turn, ed è un 62-3, 1-0-9, ok, il 10 è nel suo range, cioè proviamo a pensare alla sua mano, se lui avessi avuto 10-9, 10-8, 10-7, magari anche suite le varie, insomma, anche altre mani ovviamente, l'avrebbe giocata così? Cioè avrebbe check col lato flop, e check mini resato turn? Decisamente sì, può avere qualche jack in mano, probabile, ma onestamente li farei solo a suo jack, non credo che Q jack, e basta, perché jack 10 poi ci batte, o jack 9, jack 8 l'avrebbe giocata in questo modo, può avere qualche overpair non tribetata, sicuramente, ha tribetato 0 volte su 110 mani, quindi qua potrebbe girarci a suo asso, kk bloccherato, QQ, vabbè, jack jack molto improbabile, molte combi di 10x, asso 10, k10 bloccherato, Q10, jack 10, sì, ma forse l'avrebbe minorizzata flop, 10-9, 10-8, 10-7, visto il range direi anche 10-6, 10-5 suited, 10-4, vabbè, improbabile, 10-3 suited, 10-2 suited, ma anche tra il suo range, ma se avessi avuto, per esempio, K9, che noi bloccheriamo, non credo che l'avrebbe giocata in questo modo, non credo che Oppo avrebbe minorizzato un draw, visto le sue stats, quindi in realtà, rispetto al suo range, siamo sempre dietro, abbiamo tenuto delle 6 un po' grandi, Oppo minorizzata con questo profilo, pensiamo al suo range, non pensiamo alla nostra mano, qualche bluff, questo giocatore di default, non ne ha di base, non vedo bluff, possiamo pensarci magari contro un'ipetrica, se avessimo cercato, lui avesse bettato con queste stats, immaginiamo che lui possa avere molti draw, anche se un boardman, cioè Rainbow, per cui non vedo veramente molti quattro quinti, a parte quelli di scala, su questo mini race done, dovremmo saper foldare, comunque vabbè qua, brocchiamo, Oppo colla, gira su 10, finisce a 25 euro, non mi stupisce, ma prendiamo nota, ma lo sappiamo già, con la flop mid pair, mini check race done, da notare che a mini check race, non è che ci ha messo l'in, perché loro, loro insomma, questi giocatori non ragionano in termini di potozza, eccetera eccetera, mini race, perché hanno la mano forte, vogliono tenerci dentro, e ha un profilo di giocatore, 60 00 109, per cui è abbastanza facile, avere il suo numero di telefono, perché è quello che ho detto, ma avere anche un'idea, di che cosa vuol dire il suo mini race done, e qui probabilmente, una mancanza di lettura su fish, di questo tipo, è anche questo, un motivo di tilt, questa mano l'ho segnata, solo perché era divertentissima, qui squizziamo, colla 1, su questo board, mandiamo la vasca, Oppo snappa, e qui è divertente, solo divertente, comunque gira 7.2, questa era solo divertente, ma questa mano, è accaduto prima dell'altra, suppongo di sì, perché Emanuele, è un giocatore, è lo stesso giocatore di prima, lo stesso tavolo di prima, ma a 20 euro, poco dopo va a 25, potrebbe essere stato il trigger, cioè abbiamo pushato flop in value, a quanto pare avevamo ragione, visto che Oppo ci chiama con 7.2, siamo stati scoppiettati, così da, di violenza, abbiamo il fegato di scimmia, che però probabilmente, a volte con un po' troppo alcol, un po' troppo scoppi, ne soffre, è probabile, è possibile, però potrebbe essere un trigger, colpi di questo tipo, soprattutto in Fertile Fish, ma ho visto anche giocate contro Rek, possono veramente incidere, sul nostro mindset, sul nostro morale, sulla nostra impostazione di gioco, infatti, poco dopo, e fra l'altro devo dire, che le mining di Tilt, si concentrano in 4 sessioni, particolarmente negative, andando a vedere, tante sessioni, ben giocate, linea ottimale, tutto perfetto, un po' di sfiga forse, ma ben giocate, abbiamo anche fatto profit, abbiamo saputo foldare, e poi ci sono queste 4 sessioni, 4-5 sessioni, un po' negative, dove si, perdiamo qualcosa, con uno scoppio, un cooler, una giocata un po' particolare di Oppo, che ci fa foldare mezzo stack, quello che è, e dopo, ci andiamo a metterle, noi il carico, e lasso qua, non piglia tutto, andiamo a perdere un po' di soldi, un po' eccessivi, scusate, allora, a prendere di gun, non so, ho avuto un magone al cervello, a prendere di gun, giocatore Capitanite, eccetera, eccetera, che amiamo, ci sta tutta, raise lungo di un 90-10-10, quindi, un giocatore che gioca tutte le mani, estremamente passivo post flop, su 70 mani, è un gioco a 100% delle mani, passività appalate, abbiamo un 10-10, cioè un 17-17, ma su 60 mani, non vuol dire, non vuol dire molto, il profilo del giocatore, è un giocatore che gioca tutto, 100% delle mani, tutto, vuol dire tutto, 0-7-0-7, 70 del river bet, vuol dire molto poco, a meno di non avere nota, in questo caso, comunque ok, comunque lui raise, a questo punto, che senso ha? Limp mini raise push call, fra l'altro, stiamo giocando più che 100% per, non nessun senso, chiaramente, se noi ci ragioniamo, a posteriori, guardando la mano, possiamo dire, e qui bro, che senso aveva giocarlo in questo modo, posso argomentare per un call in posizione, visto che Oppo nei range, può avere a suo K, a suo Q, KQ forse, molto overpower, ma è molto passivo post flop, quindi in generale, credo che se beta, siamo sempre dietro, se settiamo lui beta, vinciamo lo stack, se non settiamolo in non beta, molto spesso ha la sua overcard, per cui possiamo giocare bene, in posizione, con lettura, deep stack, abbiamo un sacco di motivi per argomentare, anche per un call, dopo aver subito uno squeeze, visto lo stack, e vista la nostra lettura, ma che senso ha? con il mini race, o l'indiretto mega fanta deep stack, chiaramente, qua c'è un minimo di tilt, poi vabbè, Oppo, zira gli assi, ma se noi avessimo chiamato solo, avremmo potuto giocare una mano, in maniera, diciamo, ottimale, mi raccomando, perché qui si parla di fish, cioè, stiamo giocando contro fish, e non contro reg, qui c'è una giocata contro fish, allora, apriamo, chiama Robert, Robert Nicole, è un 50-10, 1-0-9, è una call in station, una call in station di quelle belle e grassi, un 50-10-1, fold al 50%, 0 di aggression, basse frequenze, basso in tutto, è proprio un giocatore del profilo passivissimo, immagino che ogni tanto, anche questi giocatori, piccoli, tranquilli, possano tranquillamente tiltare, siamo più che 100 per, cosa succede? Su questo board, dopo esce Donkando Pot, Donk Pot, di un giocatore 50-10, che Donk ha il 10-1 di aggression, ha qualcosa, e questo qualcosa è anche piuttosto forte, noi abbiamo doppia, quindi siamo probabilmente avanti, comunque al suo range, siamo in realtà, leggermente sopra al suo bottom, a mio avviso il suo bottom range, qua potrebbe essere Asso Jack, K Jack, come bottom range, vi dico, e molto spesso ci gira combo forti, come Jack 7, Jack 9, 10-8, e combo forti, però che abbiano anche 4 quinti colore, come Asso 10 suited, forse Assotto suited, probabilmente Kco suited, che non avrebbe tributato preflop, probabilmente, comunque contro questo range, il nostro 9-7 è ancora abbastanza equity, per cui possiamo anche voler risare in value, ci può stare, la size forse è piccola, ma va bene, anche perché siamo più che dip, ci colla il nostro Oppo, ha decisamente qualcosa, esce il Jack, e ancora potta, a questo punto, Jack counterfitta, un po' la nostra coppia, nel senso che se ora Oppo, anche a 10-10, Cucu, Jack Jack, vabbè, Jack Jack per la forza, Cucu, KK, passo Asso 10-10, ora vince lui, qui dovremmo, semplicemente, saper foldare, perdiamo ora, perdiamo contro tutto il suo range di bet, tranne Asso 10 a fiori, tipo una combo, ed è anche una combo piuttosto improbabile, qualche combo super ficca, tipo Q10 suited, quindi, un paio di combo suited, ma stiamo perdendo ora, contro tutti i Jack, stiamo sostanzialmente battendo un bluff, un giocatore che non blefa mai, qui dobbiamo saper foldare, invece qua Iro decide di vascare, perché è un po' stufo, credo, c'è da capire qual è l'emozione, è ingiustizia, non è possibile che esca sempre Jack, oppure, che ne so, è vendetta, ma che cavolo, sto tizio mi ha portato via dei soldi, chiamandomi a casa, con delle mani a caso, non è colpo suo, gioca in questo modo, cerchiamo di capire qual è stata l'emozione, dietro a questa linea overplayata, cerchiamo di riconoscerla al tavolo, e con il ragionamento inverso, tornarsi indietro, Oppo, Girasso Jack, che tecnicamente ci ha scoppiati, cheat, nel senso che eravamo avanti al flop, ma se noi ci pensiamo, al turn, eravamo sotto un treno, contro un giocatore da profilo passivo, noi stavamo pescando zero out, cioè eravamo drawing dead, qua se usciva un sette o un nove, Oppo faceva full migliore, sì, eravamo abbastanza drawing dead, siamo riusciti a metterci drawing dead, contro una calling station, su un board pair ed alto, con due carte basse, che sostanzialmente bluff cacciano, un giocatore che non bluffa mai, e questa volta il giocatore è proprio fish fish, qui un'altra mano contro fish, allora apre fish, non tribetiamo onestamente contro un giocatore di questo profilo, questo è piuttosto value, nel senso che è un giocatore che apre tutto, e la mano dovrebbe essere in value, comunque non lo facciamo, qui in questo spot decidiamo di check bussare, davanti alla puntata dei pot, ora, non dico che il range di Oppo sia particolarmente forte, ma che motivo c'è di investire un effettivo di 3,80€, diciamo 4€, visto che lo stack è effettivo, su un pot di 40 centesimi, cioè non seguo proprio l'idea di questa mano, quindi un'altra linea overplayata, Spiwi contro fish, che ci chiama pure da dietro, addirittura qua aveva 6-7, ma su questo board texture, perché non tribetiamo premi, siamo value, perché check bussiamo contro questo giocatore, quale emozione è stata a prendere, diciamo, il sopravvento in questo spot, la giocata chiaramente rivista, non è razionale, non è argomentata, quindi è irrazionale, quindi è diciamo dovuta a un'emozione, vediamo in questo spot, apriamo a su 10, vediamo tribetati, da un giocatore, Birba, Birba e Vina, che è un giocatore super neat, 18-16, tribetta il 10, tribetta un po' tanto, è overplaya, diciamo, la sua parte di tribet, ecco, però è un giocatore estremamente neat, noi giochiamo in posizione, qua Iro decide di chiamare, off-suite ed in posizione, su questo board, beta versus miss d'alf, ed è un giocatore che, per le poche mani che abbiamo, ci betta il 50, non folda mai, 10 per 10, vuol dire che su 9 volte, vabbè, su 7 volte ha foldato una volta, 6 volte ha cercolato quando ha cercato, come idea, e per il resto ci betta il suo range, ed è un overplayer, e ci colla, su questo turn, esce lui bettando, e a questo punto, proviamo a pensare al suo range, cosa mai può averci su questo turn, visto che è uscito proprio il 6, pensiamoci bene, chiaramente noi non stiamo battendo nulla, nel suo range, abbiamo la sua alta, può avere, 2-2-8-8-9-9, 6-6, perché è un giocatore che non c'è che folda mai, qualche combo, anche 7-10, un altro combo che potrebbe avere, ha tribetato pre, quindi è forzato, dargli 7-10 nel tribet range, ma è comunque un giocatore, che dalle mani che abbiamo, sta tribetando parecchio, sicuramente, pensiamo anche che noi abbiamo il 10 suited, quindi sicuramente bloccheriamo qualcosa, del suo range di draw, e il pot è 2 euro, 3 euro, e Oppo, c'è con la flop, e bet a turn, difficile pensare di aver fold equity, io invece qua decideri a scare, ma qua, siamo sempre contro una mano più forte della nostra, stiamo investendo 5 euro, su un pot di 3, quindi diciamo non un pop in overbet, ma è forzata la linea, su questo board, noi abbiamo abbastanza vantaggio di range, quindi tecnicamente avrebbe senso, tecnicamente, ma stiamo parlando del giocatore del 18-16, particolarmente chiuso, che ci ha, ci ha collato flop, e donkato, donkato, è fatto una specie di pro bet, no, non sarebbe una pro bet, perché in realtà noi abbiamo bettato verso Smith, e lui betta tan, chissà qual è il termine tecnico, una di lei ci bet, no, perché non è una bet verso Smith, ok, non ho un termine tecnico per questa move, andrò a informarmi, comunque qua, la mano di Villain è sempre forte, quando fa questa giocata, la nostra mano blef caccia, tipo un tubero, su questo board, non è esattamente ideale, broccare con un incastro e un overcard, attenzione al nostro range, per carità, su quel board avrebbe senso, se avessimo motivo di pensare che Oppo potrebbe mai foldare, ma non in questo caso, allora, qui siamo contro uno Spiwi 80-40, Spiwi, soliti Spiwi, tribetta, siamo in posizione, possiamo anche voler chiamare, è una linea di difesa un po' forzata, ma posso essere d'accordo, per le letture che abbiamo su questo giocatore, su questo board, Oppo, betta, half, e noi, mini resiamo, per poi chiamare all in, ora, qui sarebbe più standard chiamare, visto che se noi giochiamo in questo modo, la mano è value, niente da dire, però se Oppo ci repuscia qua, e lo farà abbastanza, relativamente spesso, contro un asso X, abbiamo il minimo di equity, perché noi peschiamo i Q, gli 8, e diciamo i cuori, per cui abbiamo almeno un 50% di vittoria, il piatto è già attorno ai 2 euro, noi ne andiamo a mettere quasi 6, quindi diciamo che mettiamo 6 euro su 8, ci stiamo dentro come odds circa, diciamo che abbiamo un minimo di EV, ecco, però se Oppo gioca in questo modo, io immagino che sia sempre avanti, nel senso non avrà peggio di noi, potrebbe avere un paio di combo, come 19 a cuori, per dirne una, ma veramente poche, praticamente sempre qua ci girerà una coppia, quindi immagino, vabbè, improbabili a suo asso KK, improbabili con Q, Jack Jack, 10-10, 9-9 è un po' più probabile, 8-8 è un meno probabile, 7-7 è un meno probabile, qualche 6x, visto che è comunque un po' uno spiwi, potrebbe anche avere queste combo, qualche asso suited, per cui altre mani che ci tolgono out, perché ci tolgono i cuori, e va bene, meglio, perché tanto se esce i cuori perdiamo, e ci lasciano up, li vive solo i Q e gli 8, ma se noi guardiamo i nostri odds, partecipiamo 38%, vinciamo 33 con il nostro draw, non è il massimo, onestamente qua avrei chiamato solo, perché se noi resiamo e pushati, poi dovremo foldare, visto che abbiamo comunque ancora 100 BB qua dietro, anche se il piatto è diventato grande, e hop abbastanza spiwi, va bene ridurre i range, va bene giocare principalmente a value, ma chiamare fuori odds, è semplicemente un errore in generale, poi è l'unico fish del tavolo, è l'unico fish, scusate, non voglio dire che Sassinella, se è un giocatore super skillato, ci mancherebbe, ma è un giocatore che non credo perde, è infinito, perde 15 BB 100, è quello che può perdere, un giocatore di questo tipo dovrebbe perdere molto di più, per cui cerchiamo di avercelo, diciamo, tra i nostri amici, cioè al tavolo e portarli via soldi, siamo riusciti a chiamare fuori odds, diciamo contro Mr. Agro, che vabbè qua comunque ci gira a suo asso, e quando gli spewi ci girano a suo asso, immagino invochiamo i numi, e quindi altro motivo per magari poter tiltare al tavolo, motivo che non dovremmo avere ovviamente, apriamo, colla un 70 10, non folda mai, uno di Aggression, alta River Bet, su cui dovremmo avere nota, se veramente questo è il caso, comunque mettiamo, oppoci check Raysa su questo flop, ora questo flop come texture, ha un paio di incastri, per cui per capirci, Q10 e 3 e 5, che sono mani nel range del nostro avversario, il nostro hop però folda il 10%, ha un Aggressor Factor 1, non vedo, blef nei suoi range, il board è comunque rainbow, per cui non vedo neanche molti 4 quinti, tipo nessuno, vedo solo veramente un paio di gaccio di scala, che potrebbe il nostro hop avere nei range, non credo, perché un 70 10, uno di Aggression, 10 di fold, non credo abbia nei range incastri vari, cioè mi sembra proprio un giocatore piuttosto sereno, quindi qua sta mettendo value, asso 5 nel suo range sì, asso jack nel suo range sì, perché non tribeterebbe, jack 5 suiter nel suo range sì, perché è un giocatore 70 10, 5 cico, che è improbabile, jack jack asso asso, che poi bloccheriamo, molti assi X potrebbe avere nel nostro range, il nostro asso 8, non è un granché, perché su questo board è una sorta di blef catcher, dove i blef non ce ne sono, perdiamo contro metà degli assi, vinciamo contro metà degli assi, ma soprattutto smezzeremo spesso, contro gli assi peggiori del nostro, asso 3, asso 2, asso 4, spesso su turn e river rischeremo di smezzare, possono uscire tranquillamente, insomma due carte alte, rovinarci la festa, più la carta del nostro oppo, che gli darebbe doppia, per cui sono abbastanza out, per andare a smezzare, qui io folderei, anche perché come mano di value, qui stiamo value bettando abbastanza range, per cui in teoria, se noi pensiamo a quanto range stiamo value bettando, la MDF probabilmente metterebbe in difesa addirittura questa mano, perché stiamo value bettando tantissimo, contro questo giocatore che folda molto poco, ma se pensiamo a un giocatore 70-10, 1 con 10 di fold, qua lui come minimo l'asso ce l'ha, e se ha come minimo l'asso, il nostro asso è in mezzo, comunque decidiamo di rifendere, su questa turn betta in all-in, e qua dobbiamo saper foldare, anche perché asso 4 è una delle poche mani nel range che battiamo, quindi a questo punto noi battiamo cosa, asso 6, asso 7, sì, asso 9, asso 10, asso jack, asso k, asso q, non le battiamo, jack, jack, 5, 5, eccetera, eccetera, stiamo parlando contro tutto, c'è un overbetta al turn, dovremo foldare, mini race, check race flop, all'indiretto turn, e noi andiamo a difendere con la top perca in bluff catching, poi oppo giro asso 9, è riuscito ad estrarre addirittura value, prendiamo nota su come ha giocato asso 9, però non possiamo giocare così con asso 8, a mio avviso, vediamo questi assi, giocato un po' a caso, apriamo, chiama Jumes, ok, Jumes ci ha fatto un po' tentare in certi spot, qua in questo spot, decidiamo per un check race, con questa size, oppo colla, per poi bettare, vediamo mini race rate, pushiamo, oppo snappa, gira il 5 e va lui, ma al di fuori della mano in sé, proviamo a pensare sui perché, perché abbiamo check collato su questo flop, su questo board, oppo è un giocatore piuttosto sereno, ha flattato pre, ha una bassa bet verso Smithed, giocatore tranquillo, non credo betterà molto spesso verso Smithed, a meno di non avere magari qualche mano in defense, per cui 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, che forse avrebbe bettato pre, dovremmo andare a vedere un po' di stat specifiche, per avere un'idea delle sue range, ma potrebbero essere maniche, magari in questo spot avrebbe chiamato, però nel suo range di bett verso Smithed, non vedo molta air, per cui già il check non mi convince, poi noi checkresiamo, ok, stiamo dicendo, cosa stiamo dicendo al nostro avversario, che c'è pure collato, se veramente avessi avuto 99, 8, 8, 7, 7, su questa donna, che hitta particolarmente bene il nostro range, dovrebbe probabilmente foldare, quindi ragioniamoci in questi termini, noi invece bettiamo, e su una mano, che hitta il nostro range, perché se noi ci pensiamo, noi abbiamo rilanciato pre, quindi dal suo punto di vista, noi potremmo avere in overplay, in gas, Q, K, Q, mani di questo tipo, Qjack, mani di questo tipo, che normalmente non c'è creserai su questi board, ovviamente, però una mano che hitta, una carta che hitta abbastanza bene il nostro range, un po' meno i suoi, e lui ci mini-raisa, dicendoci proprio, ah bro, so che c'hai quella donna, so che hai qualcosa, pagami, avrai il 10, avrai il suo 10, avrai quello che è, e ci mini-raisa per non mandarci via, noi ovviamente non andiamo via, e andiamo lì, ma il perché, è la cosa che mi preoccupa, perché non mettiamo su questo flop, perché ci accresiamo, perché mettiamo un euro, per poi chiamare, in cui si, per poi, per poi bloccare, posso starci, però ricordiamoci, che abbiamo noi l'asso di picche, questo tal migliore il nostro range, il board è pered, il nostro hop non vedo, perché dovrebbe farci tiltare, dovrebbe farci ceccare, contro il giocatore che ha 30, ribet versus miss ed, non tanto per la mano in sé, può anche andare, forse, ma è proprio sulle argomentazioni, che ci hanno portato a giocare, in questo modo, perché è una read rivolta, al riconoscimento anche del tilt, in questa mano cosa succede, apre Ale, con la fish, decidiamo di squizzare, ci posso stare, ora Ale, dal giocatore che vediamo noi, ha un basso fold, è un giocatore piuttosto aggressivo, è un 35-30, eccetera, però ha chiamato anche John, che è fish, quindi a su 9, può avere un senso, come parte di bluff aumentata, contro Ale, anche se dalle poche mani, che abbiamo fold a poco, e può avere senso, perché comunque John è fish, quindi stiamo allargando il nostro range, può avere senso, solo che in questa mano succede, che vediamo leggermente rilanciati, 5 per da Ale, che è una cosa molto strana, ma se sapete, se conoscete il latino, Ale vuol dire dado, suppongo Ale, Iactest, dicono la biaretto Cesare, ma sono parole che gli sono un po' state, diciamo, infilate in bocca, comunque ci lesa per 5, come possiamo pensare che Oppo folderà mai, dopo aver fatto una linea di questo tipo, come possiamo pensare che Asso 9, sia abbastanza buona nel nostro range, per bloccare qua, soprattutto se noi brocchiamo Asso 9, con quanta parte di value stiamo broccando, con quanto bluff stiamo broccando, ma in questo spot, Oppo dopo aver risato 5 per, veramente potrà mai foldare, perché brocchiamo? Cioè, qual è il motivo di questo spot? Poi, vabbè, Oppo, Geraso K, non c'è veramente alcun motivo, per giocare la mano in questo modo, immagino che Oppo sia abbastanza agro, come profilo, è la nostra sinistra, ragioniamo, su cosa ci fa giocare in questo modo, perché qui è questione di tilt, se non si fosse ancora capito, ultima mano contro Jure, che ci, che giocatore è fortissimo, è fortissimo, che ci esce in 3-bet, 8000 per, ok, c'è overplay, è una 3-bet veramente senza senso in questo spot, peccato per Jure, giocatore che ho avuto, con cui ho avuto occasione di parlare, mi dispiace per le sue sorti, potrebbe fare veramente gran bene, ma non c'è verso, comunque, decidiamo di overplayare una 3-bet piuttosto lunga, a caso dopo un overbet, per poi bettare su questo flop, per poi foldare un euro, va vero contro Jure, in questo spot, una mano a caso, in questo spot, giochiamo sereni, Jure i soldi ce li tira addosso, in qualche modo, sappiamo come gioca, ce lo sappiamo, lo conosciamo, lo abbiamo al tavolo, lo abbiamo note da giocatori, non perché io voglia insegnarvi di exploitare Jure, non ho motivo di farlo, ma abbiamo un po' di pazienza, che motivo c'è di prendere una mano a casa, forbettarla lunga, dopo una 3-bet così lunga, broccare, check-collare, check-bettare, pushare, foldare un euro su questo pot, fuori, assolutamente fuori range, questo è il discorso, su queste mani, perdiamo 70, che è un sacco, non è che potevamo salvare tutto, ma 70 euro, con un EV di 26, erano più 50, più 35 di back, era più 100 euro, su 9000 mani, il nostro tilt, ci ha portato a perdere soldi, poi vabbè, anche un po' l'EV ovviamente, ma non è quella la cosa che ci interessa, a meno che, lo scoppio in EV, non sia quello che ci fa tiltare, allora sicuramente è una cosa che ci interessa, comunque, il succo di queste rid, non è tanto sulle stats, sulle mani specifiche, sulle mani in generale, sulle impostazioni di gioco, ho visto un buone zap, ho visto le sessioni, quelle giocate, più normalmente, quelle verdi in generale, quelle un po' più corte, un po' più tranquille, ben giocate, una linea anche un po' più aggressiva, più loose, ben giocate, le sessioni dove abbiamo perso di più, nelle sessioni dove abbiamo perso di più, si concentrano le mani marcate, gli errori, gli scoppi, i trigger, diciamo il tilt, e noi dobbiamo sbaragliare questo tilt, perché ora che siamo a livello a parte 5, non possiamo lasciare che il tilt continui, se una volta tiltavamo al 2, ci poteva anche stare, esperienza che è comunque utile, perdiamo un po' di buy-in, ci ragioniamo su, non tilteremo in futuro, ma ora che stiamo levelappando, questi tilt costeranno cari, sempre più cari, e mano a mano che saliamo di stake, il tilt e la gestione del mindset, diventerà sempre più importante, per capirci, quando saremo al 100, non sarà addirittura più importante, il lato mental coaching, ragionamento su tilt, eccetera, run e quant'altro, che il nostro lato skill, perché si dà per scontato, che noi abbiamo già studiato, quel che basta per arrivare a un buon livello, che abbatta il livello in generale, sicuramente continueremo a studiare, ma a quel punto, il nostro mindset deve essere veramente di ferro, non possiamo giocare, diciamo, in debito d'ossigeno, contro giocatori, che hanno la stessa nostra esperienza, se non di più, invece, Anonimi 2 e Anonimi 5, spesso siamo i giocatori più esperti, anche se stiamo giocando in tavoli relativamente più sensati, quindi il nostro mindset è più al sicuro, ecco, non possiamo trovarci in situazioni di questo tipo, mano a mano che levelappiamo, perché il tilt è una brutta bestia nera, ma in realtà non è la bestia nera, ma la luce che proietta quest'ombra, è una figata questa metafora, passatemela e ragionateci sopra, perché sicuramente vi aiuterà tantissimo, anche perché vi ho detto, la mia religione nuova, dei chakra, che saliamo per riconoscere il tilt, è aperta a tutti, sono 8000 euro di iscrizione, easy, tranquilli, potete pagarmi tranquillamente anche ai tavoli, così ci bannano, se ci scambiamo le tavole e i tavoli, ci bannano pure, ed è chiaramente un segnale divino, che sto sparlando, smettiamoli di dire stupidaggiri, comunque con Maio, ci sentiremo in privata sede, per ragionarci sopra, una piccola lezione su, il mindset di ricomprensione, che vada ancora più a fondo, di quello che vi ho già detto, ma sicuramente spero, ci fossero abbastanza spunti, in questo filmato, che già sta durando troppo, e ho un sacco di cose da fare, comunque, detto questo, direi che possiamo chiudere qua la registrazione, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, per quello di oggi è tutto, un saluto alla prossima, da Lord Kane, ciao ciao!